Abbiamo la spedizione... Ah, c'è una spedizione PUBLICLA! Un'altra! Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 ma c'è quello che mi uccide la cura morte la faccia le munizioni che mi sorgono a morio il maggio cristo è il bombarello quello grosso lì gigante con una massata che è successo no corpo a corpo che trova la costellata che ha fatto il danno l'unico maschile vabbè non ti ha colpito con la bionetta mentre era in corsa no no era da tanto tempo che non vedevo in corsa però lui ha fatto l'animazione che ti ha ucciso eh ma tu perchè devi vedere che alcune armi hanno più danno di altre ciò che ne cavolate perché tipo magari tu dici una marcia è una marcia un coltello un coltello eccolo eccolo spiaggia spiaggia il librio dica mica mica ma scioltava tu non sciolta nessuno eh scrivata quello ma l'ho ammazzata ah 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 c'è qualcosa qua che che sveglio cica che c'era? ah ma io sapevo che era quello qui? adesso ci vedete qui eh mi dice qui ma qui dove? ah esamun tu non capisco oh oh ooo è questo!? chi cazzo ha visto? per streams da questo maestro da me i cazzo vale ma voglio alleado Mi dovrei cercare una sorta di rimessa metamortica Ehm, certo Magari una caverna metamortica piuttosto che una rimessa Mi accontenterò Beh, ce n'è una propria origine E' un posto in cui nascondere macchinari trafugati Cercherò un modo per entrarci È quello che speravo, sì Bof Eh Easy che è qua un oggetto la riga chimica no qua ci sono dei fumi eccolo ma chi è a mori o cazzo a questi esplodono l'oggetto non comune si dice che cazzo l'appoglione ecco questo grosso esplode questo grosso ma io faccio così si faccio così sto cazzo ma mi si è messo davanti un modo un muro ma c'è un altro di quelli rossi non si guarda invece a quelli con la spagna per ammigliare avrai a fare il culo voglio dire superiore ammazzate un'altra non mi vedo non mi vedevano ma sono due oggetti ok ok ma taci lua senti la madre ma taci lua oplà sto inizio a tenere di controllo dei domani di doppio smalti non mi dice che i macchinari e arcanisti trafugati sono connessi a un manufatto dei creatori non può essere più buona notizia non possiamo permettere che si resta elimina i metamortici oh c'era qualcosa qua ciao ah no ma niente non mi fa oh e tu che cazzo e tu di chiara e mo scoppia no ma prima è esploso ma no boom oh cazzo un piccazzoso boom addio no perchè non era di prima di esplorare scuola e feria può esso eliminatore di metaforchi ci fila completato ole che cazzo è sto coso boh mi sembra il mio cuore di pena oh che cazzo vai in su scena buongiorno superiore genera? ah pure? pure che ti genera ma? da mo che cazzo suono? c'è qualcosa di per di me di qua questo cosa? mantieni prendi non prendo ok quindi mo ah devo posizionarlo lì ok eh ma ci sono gli scapioni boh mi può facci sapere su dritto al punto benedetti becca fredda fredda obbligato qua fredda fredda eccolo fredda stavo a biglamente ma no la può esser gc e si mette davanti amore attualmente sistemato ancora i metamorfici stavano cercando intenzionalmente di generare scorpidi con un manufatto dei creatori potrebbe essere è strano di solito sono dediti al saccheggio lo noterò nel mio rapporto e grazie specialista hai dato un grosso aiuto alle sentinelle e al forte è stato bello lavorare con te sì bene forse lavoreremo ancora insieme in futuro forse ci vediamo bene abbiamo finito si spedizione completata realtà missione compiuta e poi il porto salto vediamo se c'è qualcosa della storia non penso che anch'io da tutti i soldati tranno uno per l'artiglieria 155 ho fatto a livello 6 34.000 bonus alleanza livello 3 livello pilota aumentato attenzione già che ho sbloccato visto la mitragliatrice non comune ci la pompa o sempre dice la pompa ovvia decisione ma io l'intrasegna l'intrasegna ok questo cos'è lancia missili di assalto esplosioni e impulsi no cosa che c'è l'intrasegna ma mi impazzo dello scudo mhm missile esplosivo livello 6 allora uno di questi lo toglierei questo è 6 questo lo tolgo pistola migliorare brice e sentenza lo tengo questo è l'intrasegna e l'intrasegna scomponi ho lì scegli dove vuoi andare e mettero un po' testo qua e faccio un'altra missione mettero un po' testo qua e faccio un'altra missione grazie